per aumentare il benessere anche della propria vita sulla terra, a produrre delle tecnologie che potevano essere appunto dal bastone, la lancia, la ruota e l'utilizzo del fuoco in maniera funzionale e così via, fino ad arrivare appunto agli ultimi strumenti digitali che sono proprio all'avanguardia e ci permettono, come dicevi tu, di effettivamente ci aggevano molto la vita, no? Io penso alla mia esperienza del navigatore satellitare, oggi io non so come facevano i miei genitori, e stiamo parlando veramente di pochi decenni fa, a orientarsi quando facevano un viaggio, per esempio, non so, da Roma a Rapallo in Liguria, per esempio, no? Cioè queste grandi distanze. Quindi la tecnologia ci facilita la vita. Quando è che invece la tecnologia in qualche modo va a intaccare la nostra capacità di esseri umani? Sì, allora, innanzitutto, come primissima risposta, è da dire quando non la comprendiamo. E questo è il punto primo. Ad esempio, io faccio sempre l'esempio con il fuoco, ad esempio, nel senso, molti parlano di quanto sia pericolosa questa nostra nuova, queste nostre nuove tecnologie, io penso, d'accordo, ma quando i nostri avi al suo tempo iniziarono almeno a tentare di padronaggiare il fuoco, io non penso che gli esperimenti siano sempre andati a buon fine. Probabilmente qualcuno ci ha anche lasciato le penne al suo tempo, qualche incendio, ovviamente se sono ironico, io penso proprio veri e propri incendi di una certa importanza. Ok, con questo non sto dicendo che sia tutto giustificato, ovviamente, però nei miei studi e per la mia visione queste nuove tecnologie si situano all'interno di un continuum che è partito da quando l'essere umano è iniziato ad evolversi, punto. La differenza, appunto, è che negli ultimi anni queste tecnologie si stanno evolvendo in maniera esponenziale, quindi con un'accelerazione mai vista prima, allora è lì che sta la differenza. Quindi prima di tutto bisogna comprenderle quando non le comprendiamo, perché? Perché se noi non le comprendiamo nascono pregiudizi, nascono stereotipi e così via. Punto primo. Punto secondo, sicuramente poi c'è anche il diavolo che ci mette la sua, questo sicuramente. Per cui cosa succede? Ad esempio penso a, perché poi si entra nel discorso della, definiamo la diction per comodità solo di discorso, ad esempio io penso a tutte quelle applicazioni, quei giochi, Facebook in primis, ma anche i vari giochi, soprattutto quelli per ragazzi, che sono studiati apposta per tenere incollati gli utenti sulla loro piattaforma oppure sul gioco, ad esempio, quindi studiati apposta. Altro elemento, ad esempio, sono tutti quei rischi, quelle criticità che già esistevano offline e che con il digitale si sono arricchite di nuovi elementi, sicuramente più difficili da gestire. Penso a discorso del cyberbullismo. Cyberbullismo in senso lato è uno di questi, ad esempio. Ok? Ossia, un qualcosa, il bullismo che, ahimè, è sempre esistito, però ad un certo punto è nato il digitale e la cosa si è spostata sul digitale. Il problema è che sul digitale atti di questo tipo sono decisamente meno gestibili, perché sono virali, perché è per tutta una serie di cose, quindi questo sicuramente. Quindi sicuramente questi sono i grandissimi rischi e poi sicuramente c'è un rischio di, potremmo definirlo, sovrautilizzo. Questo sicuramente. E attenzione, qui non parlo tanto di digitale in sé, però parlo della combinazione, che anche sui lati positivisti, attenzione, non demonizziamo, tra digitale e, eccolo qui, il cellulare. Ok? Perché? Perché nel momento in cui è nato il cellulare, lo smartphone in realtà, cosa succede? Noi tutto questo digitale ce lo portiamo appresso, ce lo portiamo dietro, in ogni secondo della nostra vita. Di conseguenza, aggiungi la sempre maggiore facilità d'uso delle piattaforme, dei dispositivi, eccetera, eccetera, cosa succede? Che tutto questo digitale alla fine è andato a permeare, ad entrare negli interstizi delle nostre vite. Non a caso, ad esempio, i marchettoni, i marketers, conoscono benissimo il discorso dei micromomenti, ad esempio. I micromomenti sono quei momenti anche di uno o due minuti, massimo cinque minuti, ad esempio la coda alla posta, oppure quel minuto in cui mi fermo al bar a prendere un caffè, per cui, non so, a Milano sono velocissimi, per cui sono veramente fast and furious, per cui tac tac, entro, faccio ed esco, veramente a volte 60-120 secondi al massimo. Ma, quei 60-120 secondi al massimo, già bastano per farmi dare una controllatina all'email, a vedere se c'è qualche notifica nuova su Facebook, di cosa hanno scritto, e via di questo passo. Certo. Quindi... Vai, finisci, finisci, scusami. Sì, ecco, quindi, questo discorso qui, unito a tutte le strategie che comunque vengono adottate per tenere le persone incollate sulla propria piattaforma, sul proprio dispositivo, allora ecco che la combo diventa... Molto potente. Molto potente, quindi rispetto sia a mi positivo, per carità, ma se malamente gestita, anche a negativo, sicuramente. Certo, diventa difficile resistere, poi, tante volte. Esatto, l'idea è quella, attenzione, diventa difficile resistere, ma non perché il digitale sia, appunto, il diavolo, ma semplicemente perché è la nostra mente umana che è strutturata in determinati modi, il digitale semplicemente enfatizza questi modi. Certo. Pensa, ad esempio, al discorso delle notifiche. Sì, le notifiche che gratificano, sono associate poi ai circuiti della gratificazione, della ricompensa, dell'aspettativa, anche quindi la sorpresa. Ma se noi andiamo ad analizzare proprio freddamente l'ossatura di tutto questo processo, vediamo che l'uomo è da sempre stato così. Quando sai che si sta per avvicinare il tuo compleanno, inizio un po' a pensare chissà cosa mi regaleranno, poi la sorpresa, la gratificazione. Proprio che un conto è se una cosa, se un qualcosa che mi accade una volta alla settimana, un conto è se una cosa che mi accade due, trecento volte in un giorno. Attenzione, io non sto parlando necessariamente di addiction in questo caso, perché, adesso divago un pochettino, perché ad esempio ci sono molti studi che hanno messo in dubbio la possibilità che tutte queste notifiche, ad esempio, possano generare un accumulo, ad esempio di dopamina, di queste cose qui, tale da provocare una dipendenza come farebbe ad esempio una sostanza stupefacente. C'è un, ci fu due o tre anni fa un famoso studio che associò l'utilizzo del digitale, del smartphone, delle piattaforme, all'utilizzo di cocaina, ad esempio, parlando, sfruttando proprio questi argomenti qui, quindi circuiti cerebrali attivati sarebbero gli stessi, eccetera. E qual è stato il risultato di questo studio? Il risultato di questo studio è che è stato altamente criticato, perché? Perché a quanto pare faceva acqua un po' da molte parti, potremmo dire. Allora, prima di tutto, la sostanza stupefacente è sostanza, quindi noi effettivamente introduciamo qualcosa di fisico all'interno del nostro corpo, quindi non è solo un discorso psicologico, ma è anche proprio un discorso fisico, un po' come anche la nicotina. Non è solo il gesto del fumare la sigaretta che ci abitua alla sigaretta, ma è anche tutto il discorso dei recettori, la nicotina che va ad interagire, eccetera, eccetera, ad esempio. Inoltre, comunque, il rilascio di dopamina e di altre sostanze simili, generate da sostanze, quindi fisiche, come ad esempio la cocaina, sono state misurate 10-15 volte superiori rispetto al rilascio che avverrebbe per un like di Facebook, ad esempio, ok? Allora, in molti dopo hanno anche messo in dubbio la possibilità che tutte queste continue notifiche possano generare un accumulo importante di queste sostanze che potrebbe per portare poi alla dipendenza, anche considerando che se noi parliamo di queste cose, quando parliamo di queste cose, spesso ci dimentichiamo che il nostro organismo ha, in tempi normali ovviamente, in condizioni normali, diciamo, ha comunque una sua tendenza, una spinta al, come si dice, all'equilibrio, ecco, a ritornare in equilibrio. Ok, quindi è vero che mi si rilascia questa piccola scarica di piacere, però è anche vero che non dura in eterno, anzi, più minore è la scarica e più è facile che io ritorni ad uno stato di equilibrio, ad esempio, che adesso ho detto in modo semplice, però bisogna fare molta attenzione. Esatto.